Ha riposto stasera tanta incertezza sul dibattito politico in Consiglio Comunale. Solo pochi minuti prima della seduta si capirà se la maggioranza avrà la volontà politica di approvare i due piani di lottizzazione riguardanti la frazione di Carrubba che sono all'ordine del giorno del civico consesso Marinaro da tempo immemorabile. Ieri la coalizione del sindaco Enzo Caragliano non si è riunita e quindi tutto sarà deciso a ridosso dell'inizio del Consiglio. Non è escluso che possa essere richiesto un prelievo di uno dei quattro regolamenti all'ordine del giorno dove invece i sostenitori dell'amministrazione comunale hanno un intendimento chiaro ed è anche più facile trovare un'intesa con l'opposizione filodursiana. I quattro regolamenti da discutere stasera in aula sono matrimoni civili, proposto da Paolo Emanuele, sponsorizzazioni, proposto dal vice sindaco Gianfranco Pappalardo Fiumara, denominazioni comunali voluto dai due consiglieri del PD, Bergancini e De Salvo, e Orti Urbani invece che porta la firma di Sarocerra.